Buongiorno a tutti, io sono Riccardo Scaini, io sono Francesca Cacaci, siamo oggi al primo congresso internazionale IAO, questo congresso riunisce SIO e SICOI, le due più grandi società chirurgiche italiane, questa a noi sembra un'ottima cosa, soprattutto per noi giovani, avere meno congressi ma con relatori di altissimo profilo è sicuramente un'opportunità per il nostro aggiornamento. Ci complimentiamo anche per la location, nel corso di questo congresso verrà tenuta una conferenza IAO-Yang, appunto per decidere quale sarà il futuro, cosa ci prospetta questa società. Volevo ricordare che nella giornata di sabato verrà da me con la dottoressa Bianchi tenuto un corso per assistenti specifico per la chirurgia implantare, come società crediamo che oltre al professionista, quindi ai chirurghi, sia importante anche la formazione del personale ausiliario, delle nostre assistenti e delle igieniste, perché la riuscita di un piano terapeutico di successo non è legata solo alla capacità del chirurgo ma all'affiatamento del team nella che è la sua completezza.